Mer, il materialismo divino, di Sat Prem, capitolo 18, il laboratorio evolutivo. Per dire il vero è stato il primo problema che si è posto quando ho incontrato Sri Aurobindo, dice Mer. Per dire, bisogna fare il proprio yoga e arrivare alla meta e poi occuparsi degli altri, oppure bisogna lasciare subito venire presso di sé tutti coloro che hanno un'aspirazione identica e camminare tutti insieme verso la meta. E lei dice c'erano entrambe le possibilità, quella di fare una sadana individuale, intensiva, ritirandosi dal mondo, cioè eliminando ogni contatto con gli altri, oppure lasciare che il gruppo si formasse in modo naturale e spontaneo, senza però impedirgli di formarsi e incamminarsi tutti insieme sulla strada. E' tutto il problema del mondo, dice Sat Prem, perché dopotutto abbiamo una certa concezione del mondo e abbiamo visto o creduto di vedere quello che deve essere il prossimo stadio della coscienza umana, il suo inevitabile sviluppo. Ma che ne pensa l'evoluzione? L'evoluzione comprende tutto, persino i gattini e le verdure dell'orto, senza dimenticare la nostra stupidità che fa anch'essa perfettamente parte dell'evoluzione e che non ha forse per niente voglia di cambiare la propria stupidità con degli altri stati di coscienza, con degli stati di coscienza che in fin dei conti le sembrano piuttosto aleatori. Non sono mancati qua e là nel mondo gruppi di pionieri umani, non sappiamo niente dei pionieri scimmieschi, che hanno voluto anche loro accelerare l'evoluzione e che sono finiti su un rogo come quei commoventi catari e altri scomparsi nel fango del Nilo o nella polvere di Baminian. Gli eretici sono magari proprio gli ortodossi di domani, ma nel frattempo non rappresentano che un'evoluzione mancata o una goccia d'acqua nell'oceano evolutivo. Non se ne esce, bisogna che tutta l'evoluzione vi partecipi ed è perciò che essa spezza senza tante storie o manda al rogo quelli che vogliono fare banda a parte. Il problema era visto molto chiaramente e molto impietosamente dalla madre e da Sri Aurobindo. La madre dice La vostra concezione di ciò che dovrebbe essere è così infinitamente lontana da ciò che sarà che appunto perciò, anche se cercate di vedere nel modo più totale possibile, vi lascerete dietro una quantità tale di universo per cui la vostra sarà una realizzazione pressoché lineare, in ogni caso talmente piccola e ristretta da lasciare immutata la più gran parte dell'universo. E anche se avete una visione d'insieme molto vasta, anche se potete concepire qualcosa di più totale e avanzate così sulla strada pronta per voi, perché le strade è come per le persone, certune sono pronte, senza aver la pazienza di aspettare il resto, cioè se volete realizzare qualcosa molto vicino alla verità vera rispetto allo stato attuale del mondo, che cosa succederà? La sconnessione di un certo insieme, una rottura non solo dell'armonia ma anche dell'equilibrio, perché ci sarà tutta una parte del creato che non potrà venire dietro. Invece di una realizzazione totale del divino, si avrà una piccola realizzazione locale infinitesimale e niente di quanto deve essere fatto non sarà infine fatto. E' chiaro, la madre e Sri Aurobindo non avevano nessuna intenzione di essere dei super catari per i roghi fiscali e le inquisizioni burocratiche del ventesimo secolo, che sanno fare molto bene la pulizia evolutiva. E' la terra che mi interessa, diceva Sri Aurobindo, non i mondi al di là per se stessi. E' una realizzazione terrestre quella che cerco, non una fuga su cime lontane. Dunque non si tratta certo di fare una sadana intensiva da soli, per poi ritornare sui propri passi a raccogliere il resto, che nel frattempo ha confortevolmente aspettato nella sua melma evolutiva. Dopo non è più possibile. Quel dopo è una straordinaria illusione. Si va a meditare da soli per centosettant'anni, ci si toglie il soprabito, come dice la madre, e poi si ritrovano frenetiche notazioni subconsce che vogliono rifarsi dei loro digiuni di centosettant'anni e che vi spezzano d'un sol colpo. Tutti quanti sono fatti dello stesso fango dentro. E' così. E non se ne esce mai. Il soprabito del mondo, Sri Aurobindo e la madre, lo hanno indossato subito. La decisione, dicono, non è stata affatto una scelta mentale. E' venuta spontaneamente. Le circostanze sono state tali che non c'era scelta. Vale a dire che il gruppo si è formato in modo talmente naturale, normale spontaneo da essere una necessità imperiosa. E allora, una volta partiti così, è fatta. Bisogna andare fino in fondo. Così è venuto a formarsi l'ashram. Con pochi ragazzi che giocavano a calcio, ai quali si sarebbero poi venuti ad aggiungere, con gli anni delle decine e poi delle centinaia e centinaia di altre persone. Il soprabito del mondo era là. E tutto il mondo era là. Tutti i tipi di fango e tutti i tipi di luce o di ingredienti umani per fare il laboratorio evolutivo. Una prova di evoluzione cosciente. La chiamava Sri Aurobindo fin dal 1925. Vale a dire tutta una gamma di elementi pronti a lavorare ciascuno sul suo pezzetto particolare di fango. E qui sta tutta la difficoltà. Infatti, ciascuno degli elementi che si precipita con entusiasmo nel laboratorio, appunto perché vuole uscire dalla stupidità abituale e spera proprio di avere delle esperienze, di scoprire espansioni di coscienza, leggiadre e respirabili, si inciampa di primo acchito o di secondo, più spesso di secondo dopo un certo periodo di euforia, proprio nel contrario della luce e in un fango ancora più invischiante, proprio perché lo si vuole cambiare. E' davvero il soprabito del mondo senza una piega in meno e ci vuole un campionario molto vasto, se così si può dire, perché il laboratorio sia completo di tutte le provette possibili e di tutti i miscugli immaginabili per fare la prova dell'evoluzione cosciente e accelerata a una scala pressoché terrestre. La madre e Sri Aurobindo lo avevano visto con estrema chiarezza. Se si vuole fare il lavoro in modo solitario è assolutamente impossibile farlo in modo totale, perché ogni essere fisico per completo che sia è solo parziale e limitato, non rappresenta che una legge del mondo. Può essere una legge magari assai complessa, ma è una sola legge. E la madre non si metteva al di fuori della legge né ci si metteva Sri Aurobindo. Lei ha visto tutto il problema in una visione di cristallo, perché lo vedeva non soltanto alla scala psicologica dei piccoli fanghi personali e idiosincratici, ma su scala corporea, fisiologica, potremmo dire quasi genetica. e diceva ogni essere individuale, anche se è di una qualità affatto superiore, anche se è stato prodotto per un'opera affatto speciale, non è che un essere individuale, vale a dire che la totalità della trasformazione non può essere raggiunta attraverso un solo corpo. Se si vuole avere un'azione generale, ci vuole almeno un minimo di persone fisiche. Perché la trasformazione dei piccoli subconsci fangosi non è che un primo gradino dell'operazione evolutiva. Al termine c'è la trasformazione dei corpi, il mutamento della specie. E non serve a niente dire dopo, più tardi, dopo è subito o non è mai. Le corna del toro evolutivo devono essere afferrate di un sol colpo e totalmente. La trasformazione finale sta già nel primo secondo in cui si afferra il problema. Lo si può afferrare bene o lo si può afferrare male. In effetti è un'operazione pericolosa. Non bisogna nasconderselo al punto che c'è da chiedersi perché quelli che hanno voglia di un brivido vadano sulla luna. Ci sono formidabili crateri là dentro e tumultuosi Vietnam assolutamente sconosciuti. Ma è pur possibile che coloro che si battono all'esterno nel Bangladesh o in Cile riproducano fisicamente e meccanicamente e del tutto inconsciamente questo è il fenomeno che sta avvenendo nel laboratorio interno. Tutti quanti ci vanno con tutti i mezzi. Con qualsiasi mezzo si scelga diceva amabilmente Sri Aurobindo. La differenza è che qui facciamo un'evoluzione cosciente. Vale a dire che si tratta senza scherzare di veri Vietnam interiori e può darsi che una sola delle nostre piccole vittorie silenziose abbia le sue ripercussioni su tutto il campo di battaglia evolutivo. Ma beninteso è lo stesso campo. Una sciocchezza di cui ci siamo sbarazzati dentro vale tutto il delta del Mekong. Una piccola cellula chiara rischiara tutto il campo terrestre, prepara e avvicina la trasformazione del grande corpo. Si diventa degli esseri rappresentativi. Forse, diceva la madre, se ci fosse un essere simbolico che abbia il potere, ma ci vuole molta perseveranza, il potere di contenere la rappresentazione di tutti questi disordini e di lavorare su questa rappresentazione simbolica, ciò dovrebbe aiutare il tutto. Shri Aurobindo per 35 anni ancora e la madre per 53 anni avrebbero fatto da simbolo e avrebbero contenuto il campionario di tutti i disordini possibili. ma ancora una volta ci vuole un gruppo rappresentativo secondo le parole della madre. Un solo essere non basta, una sola legge non basta, una sola qualità di cellule non basta, o almeno così sembra, dato che dopo tutto l'operazione è in corso e noi non conosciamo davvero le sue leggi né se un piccolissimo atomo non contenga la molla di tutto il resto. Esistono pur le reazioni a catena. Ed è perciò, lei diceva ai bambini dell'ashram, che non ne sapete niente o non potete immaginarvelo bene. ciascuno di voi rappresenta una delle difficoltà che bisogna vincere per la trasformazione e ciò comporta molte difficoltà. Avevo anche scritto da qualche parte che si tratta di qualcosa di più che di una difficoltà. Avevo detto che ciascuno rappresenta un'impossibilità da risolvere ma è l'insieme di tutte queste difficoltà che può trasformarsi nell'opera. Non si tratta più di difficoltà isolate, sono difficoltà collettive perché voi non fate il vostro yoga per voi stessi, per voi soli, voi fate lo yoga per tutto il mondo senza volerlo automaticamente. Questo è il senso di quel laboratorio evolutivo che è chiamato l'ashram. No, l'ashram non è un eremo, è un campionario mondiale e contiene una luce corrispondente allo spessore del fango che va trasformandosi. Ci sono questo e quella in proporzione esatta tra loro e Santo Cielo si può guardare da una parte o dall'altra e può darsi magari che non si tratti né dell'una né dell'altra ma di una terza cosa che cresce molto timidamente. Crescerà? Non crescerà? sarebbe interessante vederlo ma attraverso questo piccolo terreno simbolico la vera domanda per il mondo è di sapere se è per adesso o se sarà ancora un'evoluzione mancata. Quale assalto avrà la meglio? Quello della piccola cellula o l'altro? c'è un'evoluzione L'evoluzione